Licia, vieni qua, vieni qua. Allora, questa è una promessa che devo rispettare, ho mantenuto la promessa. Che si mangia oggi, Licia? Tagliatelle alla bolognese, bisogna andare a casa a mangiare. Tutto quello che vuoi, facciamo una in più. Non c'è problema, carne rostrata. Che carne? Come avevo? Di carne rostrata, ho costato di mangiare. Certo, salsi, scaffezioni. Dalla che abbiamo la borsetta che abbiamo fatto. La torsè, Vittorio. Allora, una piccola promessa mantenuta, ho detto che veniva a trovare Licia. Brava Vittorio. Reduce da Napoli, sta trovando Rita. Sì, sì, tutto a posto. Come si faccia Rita? La canzone? La canzone cosa la faccia? Allora, io sono passato per dire a tutti gli amici, i tuoi followers, e poi ti mando il video, questo video poi lo metti sulla tua pagina, sul tuo account TikTok e lo fai girare. E devi chiedere ai tuoi follower di tutto il mondo, noi a Trani prepariamo i dolci di Natale, sono. Carted up, Carted up, Carted up, Trangene... Sì, lo calcio, come lo vuoi? Come lo vuoi? Come lo vuoi? Come lo vuoi? Lo calcio, come lo vuoi? Invece voi cosa preparate? Ok, non te preoccupate, se loro mi vogliono rispondere. E poi vi mando una risposta. Sta benissimo. Un saluto da Trani, Licia. Ciao, un bacio a tutti i follower. Ciao Vittoria. C'è un bacio a tutti i follower. Ciao Vittoria. C'è un bacio a tutti i follower. Ciao Vittoria. Buona domenica e buona giornata. Buona domenica e buona giornata. C'è un bacio di panno, è pure un bacio di panno. Un bacio di Talese, mezzo del pano... Mezzo del pano, io lo faccio bello. Bravo. Ciao, e poi... Come stai dicendo? Come sei detto? E lo faccio? Figgio? Che ho fatto tutto? E' figlio, senza mezzo. Fennolo figlio? Brava, mi sono ricordato. Ciao. Vittorani a 58 yen, portate la bootclub da Lalla. hai voluto la bicicletta? e poi pedala